Gringo! Mi hanno detto che mi cercavi. Sei morto. Al cuore, Ramon! Se vuoi uccidere un uomo, devi colpirlo al cuore. Sono parole tue, no? Al cuore, Ramon, al cuore. Altrimenti non riuscirai a fermarmi. Quale dei due è il più forte? Il più forte? Beh, forse il rojo, quando c'è Ramon. Don Benito Rojo, mi state ascoltando, vero? So che vi serve gente. Beh, io sono disponibile. Ma badate prima di accettare. Costo caro. Prepara tre casse. Eh, eh! Adios, amico. Ehi, di, forse non hai capito che non ci piace vedere bambocci in giro. Dov'è il tuo mulo? Te lo sei lasciato scappare? Ah, sì, proprio di questo ero venuto a parlarvi. Ci è rimasto male. Chi? Il mio mulo. Se l'è presa per quei quattro colpi che gli avete sparato tra le zampe. E adesso non sente ragioni. Ehi, ci stai prendendo in giro? No, no, io ho capito subito che volevate scherzare. Ma lui, invece, si è offeso. E ora pretende le vostre scuse. Fate molto male a ridere. Al mio mulo non piace la gente che ride. Subito l'impressione è che si rida di lui. Ma se mi promettete di chiedergli scusa, con un paio di calci in bocca ve la caverete. Ho visto tutto. li avete uccisi voi. Non crederete ricavarvela così. Chi sei? Abbassate quell'arma. Sono John Baxter, lo sceriffo. Allora, già che siete lo sceriffo, pensateci voi a seppellirli. Volevo dire quattro, Cass. Allora, già and�... di questo... Ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.